bella a tutti ragazzi e vivuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su fortnite con la nuova modalità la fuga questo sarà un video video speciale del compleanno insieme a the two player e crisi alla e c'è rob e niente ragazzi iniziamo sta partita e da ora di quei facciamo le squadre normali perché cagare e l'ult cioè è bella soprattutto che il loot ma mi piace bella come in modalità però sottolinea che fa cagare proprio il lutto speciale compleanno del canale un anno 232 raga lasciatemi che io vado un attimo alla testa e torno subito anche io vado a borgo c'è borgo c'è boschetto io non ci sono arrivato a boschetto questo totten si è la caccia bella bella eccolo c'è pochissima vita è a terra ma a pochissima a terra il mandato lo scudo poi dello scudo gente ma c'è una bella mira come un po più così ragazzi il fatto infatti tra un momento faccio non c'è capa è grande e mica c'erano pure qua dentro non ci sono passato marco ma le elimina sta partita la rimina sta partita perché adagino che sono molto così a casa con cecchino e cecchino quello semiatomatico ok aiutati caccia la bestia non hanno preso raga spero hanno preso potete potete killarlo non potete villare perché almeno uno di voi marco non ci credo 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 ma guarda che cazzo quello che si sta incastrato che bug ragazzi cosa cosa? il fucile è verde ma che è sto scritto? sono scritto che cosa? poi quando è oro il clima automatico verde guarda cristiano vieni da me cristiano guarda cristiano guarda che schifo ah sì ehi guarda però per fortuna che non gli hanno tappellano ma toglie 75 quando è oro così che toglie 2 no ho visto toglie sempre 75 no no toglie 75 adesso ragazzi vi consiglio di seguirmi sui social sempre in descrizione e che tra poco e tra poco porterò un contest su instagram dove si vincerà un iphone x no magari un box one one s e one x dal valore di 2.000 euro un piccone d'oro il canale di Piero e di tutto poi di Marco che è il Piero quello mio di tutti ragazzi io sto al boschetto ah yes il boschetto vicino alla finire io sono andato alla casa Marco vieni qua da me Marco vieni qua da me ti arma c'hai per me? vieni un attimo ragazzi vedi uno scioglino per me qualcosa? eh no l'ho dato a chi si eccomi ti faccio la scioglino per me ti faccio la scioglino per me qualche mitraglietta? no come che doveva andato mito? devo fare cercare cazzo vai vieni qua sotto ci c'è? faccio tirare tutte le madonne ahahahah ahahahah a qualcuno manca colpi pompa raga? si no no c'è il 17 ecco gente dove? dove dove? andami ok ho visto andiamo 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 arrivano a cresca di tua masca scusate che cazzo che cazzo è tu? ecco pia pia pittro mi sta qua 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 eh cazzo ma dove è successo a fare che mi fa uccidermi? ma che cazzo dove sei? dove sei morto? ecco qua ma dentro a me ma sarà chissà da cedino avete col più assalto ragana 48 cianci facendo il nome a qualcuno serve colpi pompa io ti sapevo un pompa grazie mi dai un po il colpito thanks guarda guarda qui bella raga vi vedo mi servono un attimo le cuffie quindi non mi sentite più però vi vedo raga avete colpi sniper colpi cecchino sei che stanno andando di te grazie io non ho 18 si c'è gente dove nord ovest adesso ho visto ho visto ho visto ho visto no no è mio fratello che mi sta alla mia sinistra che sta sparando ai nemici buono ora thompson chi lo vuole prendo io raga qua c'è un rampino che non vuole io raga sto bruciando è anche io sono e stavo vicino a lui stava push insieme a lui non ci ho capito niente di cosa ha detto che mi accompagna il totem io vado alla torre raga dopo mi accompagna il totem qualcuno di voi sarebbe qualcuno che devo fare una missione è l'arma fortissima che sto usare proprio io che la sapete chi l'ha trovato il lampino aspetta che aspetta che lo provo un attimo fermati un attimo no io raga adesso faccio una cosa finita è troppo bello io sono da totem ok raga mi porto i scendini se volete bene io vado anzi no non vado alla torre ci sto niente raga vi raggiungo con la frattura con la frattura 130 sicuro raga che mi avete voi raga che mi avete voi raga che mi avete voi se qualcuno serve una mitraietta per caso dai dai si tenete è per tutti voi raga da me scendete su privata al 100 arriva al 100 arriva al 100 a me non mi serve perchè io già ce ne ho parecchio ok 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 allora io sto a bevere la sloop buono andiamo tutti insieme sulla venditura si venite qua ci sono tante materiali andiamo al magazzino si andiamo proprio al magazzino magazzino sopra no è stato di te ah la eh eh al bar al bar la bar museo e ci hanno messo pure qua il bar museo questi veramente raga lo sapete che non è portatile portatile raga portatile davanti a noi quella che hanno costruito un portatile vicino raga mi sparano è lì quelli del portatile raga portatile raga qualcuno c'è come ora mi fa da me sto arrivando stato 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 che cavolo da dove da sopra merda agente eccolo merda c'è ma cazzo ne sono ma che cazzo io io in tre stavano in tre stavano raga io ho tirato quattro colpi erano due team erano due team erano due team che su questi stanno in tre vabbè vabbè e niente raga queste sono le partite di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale di condividerlo e di pure di mettere like al video niente ora ci divertiamo un po' con altre partite voi vi divertirete con questo nuovo aggiornamento e niente raga noi ci salutiamo al prossimo video bella voglio ciao 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 ciao